Co come mai, co come mai, la Champions League tu non la vinci mai Co come mai, co come mai, la Champions League tu non la vinci mai Incommentabile la goduria che si sta avendo tutti quanti stasera davvero Mamma mia, l'ultima volta che ero uscita dal Champions addirittura c'era ancora Conte in panchina Rendiamoci conto, mamma mia grazie E pensare che la stavate anche provando a mettere in, pensare che potevate anche provare a metterla in sesto Invece non è servita a niente, cioè fino al 75 letteralmente avrete fatto probabilmente la peggior partita Che avete mai fatto nella vostra storia davvero Cioè stavate a perdere 4-1 contro il Benfica, madonna mia Gio Mario come sempre vi segna contro perché ormai è una profezia Però è una roba veramente bellissima Poi se l'avete riaperto avete fatto due gol in tre minuti bravi ma comunque non è servito a un cazzo A un cazzo non è servito a un cazzo A un cazzo perché alla fine il Benfica e il PSG vanno agli ottavi Che tra l'altro il PSG ha vinto 7-2 ma vabbè Maccabi Haifa, cioè Poi vedetevi contro contro chi avete perso con il Maccabi Haifa che ha preso 7 peri dal PSG Poi vabbè a parte questo il Milan che purtroppo vince 4-0 a Zagabria E vabbè lì il Milan è quasi passato dovrebbe semplicemente non perdere col Salzburgo in casa Semplicemente E nulla, cioè mamma mia mamma mia Questa rimarrà nella storia del calcio Questa rimarrà nella storia del calcio davvero Adesso dobbiamo fare il nostro domani Io non dico nulla, non dico nessun pronostico Perché personalmente non me la voglio cufare Però ovviamente speriamo, speriamo, speriamo in bene E adesso andiamo tutti quanti a godere, tutti a cantare Go come mai dai balconi Anzi, sono già pronto a vedere i video degli altri tifosi Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia Grazie a tutti